Hanno con il loro governo, con il loro ministro, con il loro presidente di regione accettato una legge di riforma delle autorità di sistema portuale che anche qui ha cancellato l'Abruzzo dalla carta geografica. Perché l'Abruzzo, se togliamo la Basilicata che non ha particolare estensione di costa e di porti presenti sul suo territorio e il Molise per lo stesso ragionamento, l'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia sui due mari, anzi anche sui tre mari compreso lo Ionio, quindi tra l'Adriatico, il Tirreno e lo Ionio è l'unica regione che non ha un'autorità di sistema portuale.